Ciao a tutti e benvenuti su Softair Undercover, io sono Darkabley e oggi recensisco un'ottica Premetto che io l'ottica l'ho acquistata insieme a un fucile della Weld a cecchino Vi lascerò il link in descrizione, ma si può acquistare anche separatamente, solo questa Vi lascio il link in descrizione anche per acquistare questa singolarmente Questa è l'ottica, è molto solida, costruita in alluminio Presenta due copri lenti, uno giallo e uno trasparente Con dei laccetti per tenerli uniti, così è più difficile perderli Uno di due è giallo perché nel caso fosse una giornata nuvolosa quando state usando la vostra ottica Il giallo va ad aumentare un po' la luminosità del mirino in cui voi state guardando L'ottica è piuttosto lunga, una mia spanna è di circa 25 cm, quindi starà sui 30-35 cm Qui ci sono le due viti per regolare l'ottica, in alto e in basso e a destra e a sinistra Inoltre nell'ottica erano già inclusi questi due attacchi per la solita slitta weaver con questa vitina Tramite questa ghiera si può regolare lo zoom dell'ottica che può andare da 3 a 9 perla Il puntatore è una semplice croce, molto comoda nel bosco per identificare i nemici più lontani E soprattutto ottimo il prezzo a cui viene venduta Io ve la consiglio, vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi sono stato utile Di andare a visitare la mia pagina facebook e di iscrivervi al canale Un saluto da Darkplay, ci vediamo martedì prossimo sempre alle 13 con un nuovo video Ciao 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 Al prossimo episodio